Ciao Vincente, eccoci qui oggi in questo video voglio farti una domanda Hai mai valutato in realtà quanto la tua mente possa incidere nei tuoi risultati di betting e di sports trading? Bene, se non l'hai fatto ti invito davvero a farlo perché è davvero fondamentale questo è davvero fondamentale perché oggi i tuoi risultati praticamente sono il riflesso di ciò che hai nella tua testa sono il riflesso di ciò che hai inserito nella tua mente sono tantissimi anni che faccio sports trading e betting ad alti livelli oltre a svolgere uno studio davvero impressionante sull'essere umano questo praticamente grazie ai miei fantastici mentori e quello che posso dirti praticamente è che se inizi a pensare questo dunque inizi a farti questa domanda inizi a farti questa domanda praticamente vedrai che in realtà inizierai a dar sempre più credito alla risposta che in realtà ti do in questo video praticamente la risposta è che la tua mente determina continuamente le tue azioni sia praticamente quelle che direttamente vengono praticamente comandate sia quelle che indirettamente vengono eseguite e nel momento in cui praticamente stai facendo sports trading o betting sappi che sei in piena attività mentale difficilmente una persona pensa quando è in un'attività di betting o sports trading fa attività mentale attività mentale non significa pensare dunque di conseguenza le tue azioni praticamente sono esclusivamente cosa? degli ordini che il tuo corpo esegue ma che partono in realtà dalla tua mente dalla tua programmazione dunque cosa voglio dirti con questo? quello che voglio dirti praticamente è che devi iniziare a pensare devi iniziare a capire come mai agisci in un determinato modo o reagisci anche in un determinato modo magari a delle vincite, a delle perdite, a delle loss in grano e per farlo ti consiglio ovviamente di imparare a studiarti in realtà devi imparare a studiarti devi studiarti e devi imparare a farlo ma soprattutto quello che voglio dirti e quello che voglio consigliarti è di andare su scommesseintelligente.com e in realtà accedere alla mia video serie di coaching che ho messo a tua completa disposizione in modo gratuito sono tre video coaching di altissimo livello se fai betting ti aiuteranno tantissimo praticamente ti risolveranno tanti enigmi in quei video e sicuramente ci saranno di grandissimo aiuto ma soprattutto ti daranno una nuova consapevolezza e soprattutto questo lo otterrai nel primo video nel video dove parlo in realtà cosa accade nella tua mente e perché in realtà la tua mente determina ha determinato e determinerà i tuoi risultati a livello di profit o loss nel lungo termine in questo mondo qui è Francesco Bellomo e ci sentiamo presto ciao 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 ciao